cartellone ricco di iniziative per questa estate chiare fresche e dolci sere giunta la ventitresima edizione concerti musica teatro iniziative culturali cerchiamo di ravvivare così l'estate di calcinaia di fornacette e cercare di coinvolgere più possibile i nostri i nostri cittadini eventi diffusi sul territorio diffusi sul territorio tesi a valorizzare non solo le piazze principali le più frequentate del nostro comune ma anche luoghi di solito meno conosciuti come per esempio il parco del palazzo orsini baroni dell'istituto cottolengo di fornacette dove si terrà una bellissima iniziativa dedicata a dante alighieri che avrà sullo sfondo appunto il trabocco di fornacette un manufatto idraulico del cinquecento sconosciuto a tanti nostri concittadini e poi anche in sardina di fronte alla cappella di santo stefano dove apriremo proprio il nostro festival chiare fresche e dolci sere con il concerto di un artista di fama nazionale paola bivona che si esibirà il 22 giugno alle 19 diventi tutti costosissimi prezzi biglietti alle stelle e beh purtroppo per fortuna anzi non ci sono biglietti alle stelle perché tutti gli eventi sono gratuiti fatta eccezione appunto dell'evento di musica strada che però ha un prezzo contenutissimo e sono gratuiti aperti a tutti i cittadini grazie a tutti Grazie a tutti.